Ecco, ve la faccio vedere meglio adesso che a sera, la Namba Walk. Sarebbe la passeggiata sotterranea di Osaka, nella zona di Namba. Cioè praticamente ci sono centinaia di negozi, e come sempre mi stava cadendo la macchina fotografica, però ce l'ho applicata alla mano. Ci sono centinaia di negozi, bisturanti e quant'altro, vedete? Sotto terra praticamente, ma ce ne sono tanti, cioè non è una roba da 50 metri, capito? È una cosa infinita. Sì, è incredibile, no? Perché uno vede Osaka, la vede da sopra e uno dice, sì, grande, no? Però in realtà, quello che uno non sa è che Osaka è anche sottoterra. Quindi, chi viene a Osaka deve sapere che è anche sottoterra, capito? Quindi, tipo, qua ci sono dei negozi, e... Vedete, qui fanno la spesa, questo che vende bignè, eccetera, eccetera. Ce ne sono tantissime. Allora, guardate, questa è una panetteria. Che vabbè, adesso hanno finito tutto, purtroppo. Questo è un toast, una pancetta, uovo e origano. Poi, vedete, adesso vi faccio vedere che questo vende dolci tipici, dolci tipici giapponesi. Cioè, vedete, io in una delle strade sotterranee, in realtà, ce ne sono tante, capito? Cioè, non so se vi rendete conto. Ci sono sottoterra. Quindi è finita la parte qua. Questi stanno chiedendo perché sono le nove. Questi sono crede. Quasi quasi, potrei prendere una. No, ho deciso che adesso non è ora di crepe. Qua ne avevo mangiato una volta. Mi pare, vediamo. Sì, sì, qua ho mangiato una volta. Molto buono. Il ristorante di Onagi, che è l'anguilla. Praticamente c'è, tipo questo piatto, c'è del riso sotto. Il riso è condito con il poccio. Come si chiama il poccio in italiano? Sarebbe il sughetto dell'anguilla e sopra ci sono i pezzi di anguilla, come avete visto. Poi invece sono nella zona più stazione. Infatti, qui sotto c'è l'ingresso alla stazione. E anche qua. Se mi pare ci siano, non vorrei dire una scemata, però tipo 60 uscite. Che non sono tantissime. tantissime, eh. Niente. Namba World. Ecco. Cioè, vedete qua continua, no? Sì, un po' stufa, no? Per vedere un video solo di Namba World. Però, era un po' per farvi capire. Perché uno gli dici, ah, è Namba World che è enorme. E di qua, di qua. Cioè, vedete, allora, di qua ci sono i negozi. Si gira. Dico, vabbè, sono chiusi, ma... Cioè, è uguale, no? Avete capito che è enorme? Certo. Sì, il video non è di alta qualità, quindi non riuscite magari a vedere fino in fondo, però... C'è da camminare fino a che si vuole. Questo riguarda le mappe. Tutto quello che si trova. E adesso purtroppo stanno tutti chiudendo, quindi non c'è molto da farvi vedere. Comunque, ecco, spero di essermi fatto capire. Questa è Namba World, a Osaka. E io sono qua. Adesso stavo guardando l'uscita che devo prendere, perché sinceramente a forza di fare video e guardarmi intorno sono un po'... Non ci ho perso, ma quasi. Vabbè, alla fine basta scegliere una casa e poi... si va d'occhio, no? Eh, mi dispiace che ci sono tutte queste serrande chiuse, vabbè. Ma le 9 chiudono qua, sono le 9.05. Ecco, da Namba World un saluto a tutti. Al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!